Clementino, ti è mai capitato di provare a parlare con Dio? Sembra una domanda difficilissima e sembra anche di riuscire fuori da questa stanza. Sì. E le cose che gli chiedevi quando avevi 15 anni, sono le stesse che gli hai chiesto ultimamente? No, perché mi collego al discorso che ha fatto Enzi prima. Da piccolo era la questione di riuscire a diventare famosi. Però io, uguale a Yari, non ho mai detto ora spacco tutto, posso tutto. Perché nel momento in cui ho detto posso tutto, c'è stata la mia discesa proprio. Ripida anche. Da ragazzino potevi parlare con Dio e dire speriamo che un giorno io possa diventare un grandissimo cantante, grandissimo rapper. Poi ho iniziato a parlare con Dio di cose molto più serie.